Ciao ragazzi, questa è una ricetta semplicissima che faccio ai miei genitori che non apprezzano moltissimo l'uovo potete usarla anche con i bambini che magari storcono un po' il naso ovviamente sbattiamo uova con parmigiano, prezzemolo e limone, sia grattugiato che scorza sbattiamo bene bene e mettiamo in una padella calda con olio subito ci mettiamo l'uovo, la sottiletta e altro parmigiano il trucco è riuscire a chiuderla a mo' di cannolo così che il formaggio diventa proprio una bomba filante è importante la padella sia ben unta o comunque una buona non stick questa onestamente aveva troppo formaggio e troppo uovo per una padella così piccola quindi nonostante è buonissima, in video era un po' bruttina e smoscia quindi l'ho rifatta qualche giorno dopo per farvela vedere quando è più piccina e precisina guardate come fila